E' italiano per eccellenza, forse la tradizione, però non molto diffuso a livello popolare. La scherma risente un po' della difficoltà televisiva di essere in qualche modo comprensibile dai profani, però nello stesso tempo si stanno modificando le regole, la scherma che vogliamo fare anche noi qui al Salaria Village sarà una scherma anche fatta di tattica, di studio, di impegno mentale, quindi una scherma che divertirà pure chi la farà, non è soltanto un impegno fisico, che comunque è molto interessante ed è anche significativo, ma un impegno mentale, strategico, tattico, che significa divertimento per i giovani e anche per gli adulti. Credo che qui si potrà fare un buon lavoro, cercando di compatibilmente con le altre splendide discipline che ci sono, del nuoto, l'attività di palestra, il tennis e tante altre attività splendide, la scherma potrebbe essere un coronamento interessante per tanti appassionati che vedendo i risultati, essendo la federazione che ha portato più medaglie a livello olimpico, potrebbe diventare una curiosità che viene esaudita da anche i miei collaboratori di alto livello e tecnici di alto livello. Quindi corsi qui al Salaria Sporting Village di Roma, indirizzati a ragazzi, ragazze, uomini? Certo, vedremo gli spazi, vedremo le possibilità di accoglimento, ma noi cercheremo di fare una sorta di reclutamento interessante studiando e spiegando in cosa consisterà questo corso e vedremo di dedicarci specificatamente o ai più giovani o ai meno giovani. Comunque è un'attività che si può fare da 6-7 anni fino a qualunque età, 80-90 anni, naturalmente con spazi diversi e con movimenti differenziati. Per la disciplina, tu Michele, campione olimpionico di Sciabola, quali saranno? Fioretto, Sciabola? Le tre armi sono Fioretto, Spada e Sciabola, vedremo qui di iniziare con un'attività amatoriale in base alle esigenze, in base alla domanda che riceveremo, in base al target e poi lì potremo adattarci portando i maestri adatti a Fioretto, Spada o Sciabola. Il Fioretto è l'arma di avviamento per eccellenza, ma ormai i tempi moderni prevedono anche un avviamento direttamente alla Spada o alla Sciabola. Dipende dalle caratteristiche fisiche, altezza, in base ai regolamenti e alle differenti convenzioni che regano le tre specialità, si potrà scegliere meglio, indirizzare meglio e consigliare meglio ai vari soci, eventuali appassionati, quale specialità, quale arma scegliere.